Ben ritrovati da Simone Ardoni, un appuntamento con informazione locale di Radio Civita in Blu. In questo giovedì 2 aprile 2020, in primo piano ancora i numeri dell'emergenza Covid-19. Rispetto alla giornata di ieri si registrano 15 nuovi casi positivi, di cui 14 trattati a domicilio. I casi sono distribuiti, come fa sapere l'ASL di Latina, nei comuni di Aprile a 2, in turno 1 e 1 a Fondi e in più ci sono 11 casi riscontrati presso una struttura socioassistenziale di Aprilia. Dati in calo al netto di quelli proprio del comune del nord della provincia, ieri in calo anche il trend regionale è sceso per la prima volta sotto il 6%. Ieri sera l'ennesimo discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Nazione in questa situazione di emergenza da coronavirus nel corso dell'intervento, durato non più di 15 minuti, comprese le domande della stampa, la notizia della proroga, delle misure restrittive fino a dopo Pasqua. Ascoltiamo le parole del Premier proprio in merito al prolungamento delle misure restrittive. Ma ripeto, non siamo ancora nella condizione di poter iniziare ad abbracciare una prospettiva diversa. È la ragione per cui ho appena firmato il nuovo DPCM che proroga, lo avevamo già anticipato tramite il Ministro Speranza, che proroga l'attuale regime delle misure così come sono state disposte sino al 13 aprile. Noi ci rendiamo conto che vi chiediamo un ulteriore sforzo, un ulteriore sacrificio, ma questo lo dobbiamo afferrare tutti. Se iniziassimo ad allentare queste misure, tutti gli sforzi in cui fatti sarebbero vani. E dall'emergenza passiamo alla solidarietà. Partita poco più di 15 giorni fa, la raccolta fondi per il dono svizzero di Formia, lanciata dal Comune in collaborazione con la Protezione Civile per Sud Pontino, i ragazzi dell'Associazione Living California e la Curva Coni Formia, che sta dando ottimi risultati. Un totale di fondi raccolti che sfiora i 70.000 euro ad oggi, infatti, ai quasi 59.000 euro raggiunti con le donazioni ricevute tramite bonifico, si aggiungono i 10.000 raccolti tramite crowdfunding. E nei giorni scorsi anche l'iniziativa di solidarietà partita da fondi, nonostante la zona rossa e da quel MOF tanto screditato nei primi giorni dopo lo scoppio dell'emergenza a livello locale. Proprio dal MOF di fondi, infatti, partono quintali di frutto e verdura alla volta della Lombardia e così sarà fino a fine emergenza. Sulla questione è intervenuto anche l'ex sindaco di fondi, nonché europarlamentare Salvatore Demeo, che ha parlato addirittura presso il Tg nazionale di studio aperto. Ascoltiamo un estratto del suo intervento. Il carico di ortofrutta 130 quintali sono i primi carichi che vedranno il Banco Alimentare distribuire frutta e verdura alla popolazione della Lombardia che ne ha bisogno. Una città solitale come fondi non poteva mancare. Ringrazio gli operatori del mercato ortofrutticolo che ancora una volta, nonostante la stessa città di fondi, stia vivendo come l'Italia un momento difficile, non hanno voluto far mancare la loro vicinanza. Fondi e MOF, protagonisti in solidarietà anche per altro, perché attraverso alcune cooperative agricole la collaborazione di Erminio e di Trocchio, tra le altre cose anche responsabile provinciale Teleton, sono riusciti a reperire, acquistare, a donare oltre mille mascherine chirurgiche all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, mascherine destinate quasi interamente ai medici in prima linea nell'emergenza. Fanno sapere coloro che si sono prodigati proprio per riuscire a recuperare le mascherine. Andiamo alla politica. Era nell'area da tempo, già dopo il rinvio del referendum costituzionale, seppur quello era previsto per fine marzo e le amministrative invece erano previste tra il 15 aprile e il 15 giugno di quest'anno. Ma adesso se ne parla con molta insistenza e Fondi e Terracina, i comuni della zona che dovevano andare al voto nella primavera di quest'anno, potrebbero vedersi rinviare le elezioni amministrative in autunno. Ieri infatti il sito web del Corriere della Sera, negli aggiornamenti Notizia dopo Notizia, ha riportato come a seguito di un incontro a Palazzo Chigi con le opposizioni, il Presidente del Consiglio avrebbe esposto l'ipotesi del rinvio del rinnovo delle cariche per le amministrative. Si parla già di un voto accorpato con il rinvio del referendum costituzionale che dovrebbe tenersi entro il 22 novembre 2020. E sempre con la politica andiamo a chiudere. Convocato dal Presidente del Consiglio Comunale di Minturno, Giuseppe Tomao, il Consiglio Comunale, dopo essere stato approvato apposito decreto proprio dal Presidente del Consiglio Comunale e nei giorni scorsi a Minturno torna la politica protagonista con una riunione della massima assise civica prevista in forma urgente per quest'oggi alle 16, ma in videoconferenza all'ordine del giorno proprio l'emergenza del Covid-19. Attraverso la videoconferenza si riusciranno per l'appunto a mantenere le distanze e a rispettare tutte le norme previste dall'evitare aggregazione. Noi siamo in chiusura di questo appuntamento con l'informazione locale. Vi ricordiamo come sempre che sulle nostre frequenze venne onda zona rossa la rubrica che racconta le storie di tutta Italia legate al Covid-19. Tutto il giorno Radio Civite in Blu è in diretta per tenervi in compagnia con musica e informazione. Per questa edizione è tutto, vi ricordiamo come sempre i nostri contatti potete iscriverci al 348-888-1447 o se preferite Radio Civite in Blu che c'è a gmail.com Un saluto da Simone Nardone e un buon proseguimento di ascolto su Radio Civita in Blu.